Davide, quanta rabbia c'è dopo un primo tempo giocato più sotto tono rispetto a quanto il Verona ha fatto vedere negli ultimi mesi, da gennaio in poi? E una ripresa invece giocata creando occasioni, due gol annullati, un gol invece realizzato. Qual è la tua analisi di questa partita? No, c'è dispiacere perché per regalare un tempo così, poi abbiamo visto che quando siamo entrati con la giusta cattiveria, recuperare seconde palle, essere lucidi, quindi potevamo mettere in difficoltà la Samp, è peccato farlo solo per un tempo, dispiace perché queste poi sono occasioni importanti per noi, però c'è poco da parlare, testa bassa, lavorare adesso fortunatamente c'è la sosta, perciò ci ricarichiamo le batterie, recuperiamo gli infortunati e si va avanti a testa alta. Il tuo gol, il primo in campionato, l'ultimo l'avevi segnato al Bentegodi l'anno scorso contro il Milan, ha riaperto questa partita per un momento, il Verona poi fino alla fine ha tentato di pareggiarla, ha dato tutto fino alla fine. Ti dà fiducia e morale appunto in vista di quello che sarà poi lo sprint finale di questo campionato? No, no, ma io ho sempre fiducia nella società, ma soprattutto nei compagni, nella squadra, io ho molta fiducia a loro e in me stesso. Certo, purtroppo quando succedono queste cose un po' dispiace, siamo areggiati, però io credo, credo assolutamente nella squadra, nei ragazzi soprattutto, e sono sicuro che da qui alla fine faremo grandi cose. Come dicevi giustamente, adesso ci sono due settimane di pausa, ci saranno le nazionali, si potranno recuperare gli infortunati, poi poi ripartire con la carica giusta, la marcia giusta, rivedere appunto col Verona che diceva prima. No, assolutamente, qui dobbiamo essere compatti, dobbiamo essere un gruppo forte perché tutti quanti insieme possiamo fare qualcosa di importante. Grazie. 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 Grazie.